Così, miei cari, come sempre siete stati obbedienti, recate a compimento la vostra propria salvezza, con timore e tremore, non come se ciò doveste fare quando io sono presente soltanto, ma molto più adesso che io sono assente. Con questo così l'Apostolo mostra che gli connette il suo pensiero con quanto ha detto precedentemente. Il nesso fra questo passo e i pensieri precedenti è nel Filippesi 2,8. Il Reus chiama questo brano Filippesi 2,12,18 una perorazione, consistente in un invito a quella sottomissione di cui il Cristo avea dato l'esempio. Come Gesù si era sottomesso alla volontà di Dio, così debbono i fedeli, con uno spirito di assoluta sottomissione, lasciarsi guidare dallo Spirito di Dio sulla via della santificazione e della vita. Come sempre siete stati obbedienti, si intende a Dio prima e poi a me, Apostolo suo. Recate a compimento, lavorate a compire, a terminare la vostra propria salvezza. Ebrei 12, verso 28. Non si dimentichi, perché il dimenticarlo è fatale alla retta intelligenza del passo, che l'Apostolo scrive a dei credenti, a della gente che ha risposto con libero sì della fede al misericordioso appello del crocifisso risorto, a della gente che non soltanto ha creduto in Cristo, ma che ha già partecipato alle sofferenze di Cristo, in quanto ha già patito per Lui e per la testimonianza del suo Vangelo. Quando dunque l'Apostolo dice a gente così fatta, recate a compimento, lavorate a compire, a terminare la vostra propria salvazione, Egli non fa altro che incitarli alla santificazione. Essi sono già sulla via della salvezza perché hanno creduto in Gesù. Si tratta ora di vegliare, di resistere alle tentazioni, di essere attenti al dovere, di perseverare nelle buone risoluzioni, di continuare insomma, usque ad metam, e non è lavorio da prendersi a gabbo codesto, non è lavorio che si possa fare così a testa alta. E si conviene farlo con timore e tremore. Timore non è paura, è il sentimento creato in noi dalla coscienza della nostra debolezza e dall'esperienza che abbiamo fatta e facciamo della forza che ha la tentazione. È il filiale, orrore, che proviamo all'idea di poter in qualche modo offendere quell'iddio che tanto ci ama e da cui tutto dobbiamo. Il tremore, dice bene il crisostomo, non fa altro che intensificare l'idea del timore.